Impiegati o poliziotti, vogliamo comprendere quali siano i programmi e i progetti per il corpo di polizia municipale. E il SULP, il sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale, adesso a chiedere un confronto con i sette candidati a sindaco della città di Arezzo, tra loro anche un vigile Fabio Butali. A uspichiamo, spiega il segretario provinciale e l'agente Davide Frondaroli, in una convocazione prima delle elezioni, grazie alla quale, nero su bianco, possiamo capire in quale direzione si vuole andare. Sono infatti diversi gli aspetti e le problematiche non ancora risolte. Tralasciando, ma non per importanza, gli aspetti economici dei quali ci occuperemo in altre sedi, vogliamo sensibilizzare il futuro sindaco che la polizia municipale non può e non deve essere uno strumento politico, ancora peggio elettorale. La PM è infatti il primo biglietto da visita di una città e ad essa è affidato un compito molto complesso che non è fatto solo di multe. Noi siamo anche la prima interfaccia che il cittadino si trova di fronte e dobbiamo dare una pronta ed immediata risposta, quindi è fondamentale in tutto questo una costante formazione per un impiego a 360 gradi. In tutto il mondo la polizia locale è presente, ma in Italia siamo ancora sottoposti ad una normativa nazionale obsoleta e inefficace. È pur vero che la legge di riforma è materia nazionale, ma a livello locale si può far molto e la polizia municipale non si è mai tirata indietro a nessuna richiesta di collaborazione con le altre forze di polizia. Concludo, dichiara infine Frondaroli con un in bocca al lupo a tutti i candidati in attesa di un confronto quanto prima con spirito collaborativo al fine di capire cosa ci aspetterà per i prossimi cinque anni.